E' una ricognizione da solo. Ascoltate, il compito della BSA è liberare il mondo dal bioterrorismo. E possiamo farlo solo se restiamo uniti. Nessuno è sacrificabile. Esatto. Magari sarete anche pronti a morire per la nostra causa. Ma il mio lavoro è assicurarmi che ne usciate tutti vivi. Ricomponiti, finito. Mi spiace, signore. Nessuno viene lasciato indietro. Non se ci sono io. Intesi? Sì, signore. Finito. L'aggiornamento. Sì, signore. I guerriglieri usano una nuova specie di arma bio-organica. Il comando li chiama Ju-Au. Sono estremamente intelligenti, incredibilmente forti e sono capaci di mutare in risposta ai traumi fisici. Bene. Sapete cosa fare. Diviamoci in tre squadre. Muoversi. Tutto chiaro. Signore, signore. Sì, è un po' bellino, eh? Sì, signore. Filme Colli, signore. So che sei nervoso, Filme. Ma la squadra ti copre le spalle, ok? Sì, signore. Farò del mio meglio, sempre. È sempre così grandioso. Fuoco nemico, squadra alfa! Attaccate! Truppe, dividetevi! Rispondete al fuoco! Pronto, QG! Siamo sotto attacco al due di cuori! Rispondiamo! Ricevuto. Attenti a quei soldati potenziati. Inquadra alfa rispondente. Le nostre unità devono sparmagliare. Non possiamo offrirvi assistenza. Ricevuto. Ce la faremo da soli. Quei? alwaysbago! Sì, sì! dumbare rispondенных роз di i tuono! Eıl diudere rispondenti all việci soldatare di iくi. Te lo vero diading%, Grazie a tutti. 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 E' questa la nuova specie di cui parlava il QG. I proiettili non servono. Non sono normali nemici. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.